Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Pace e bene a tutti, carissimi fratelli e sorelle, dopo aver celebrato la solennità dell'Epifania, manifestazione del Signore Gesù, la liturgia in questa domenica particolare che raccorda, potremmo dire, la fine del tempo di Natale, l'inizio del tempo ordinario, ci fa riflettere non solo sull'evento che ha segnato l'inizio del Ministero pubblico di Gesù, il battesimo, ma anche sull'evento che ha segnato l'inizio di una nuova vita per ciascuno di noi, la vita di grazia per mezzo del nostro battesimo. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E quanto ascolteremo nel brano del Vangelo, il Padre manifesta questo compiacimento proprio con l'invio dello Spirito Santo, che è amore personificato, non è un'energia, una semplice forza, ma lo stesso amore personificato del Padre. Ora, cari fratelli e sorelle, il battesimo di Cristo viene per certi versi presentato da tutti gli evangelisti come il battesimo del nuovo popolo di Dio, il battesimo della Chiesa. Cristo è il Figlio amato che offre l'unico sacrificio accetto al Padre. L'immagine di Cristo che esce dall'acqua è proprio l'immagine del nuovo popolo che viene liberato definitivamente. Lo Spirito Santo inviato dal Padre rimane su Gesù affinché ognuno potesse riconoscerlo come il Messia, inviato a portare il lieto annunzio ai poveri e, come dice ancora Isaia nella prima lettura che ascolteremo, a riconoscerlo come colui che è venuto a pascolare il gregge e a radunarlo con il suo braccio, a riconoscerlo come colui che porta gli agnellini sul petto e come colui che conduce dolcemente le pecore madri. Dobbiamo riconoscere oggi la grazia che il Signore ha fatto anche a noi mediante il battesimo ricevuto. Siamo membra vive del corpo di Cristo, siamo partecipi del suo stesso mistero pasquale, siamo abilitati ad una vita nuova nello Spirito che ci pone nella famiglia trinitaria. Siamo passati, come dice un commento al sacramento del battesimo, dalla solidarietà nel peccato alla solidarietà nell'amore. Ecco perché dicevo in apertura che oggi deve essere per noi un momento di grazia particolare per far emergere o riemergere la nostra profonda identità. Diventa ciò che sei, ripeteva spesso il compianto arcivescovo di Bari, Monsignor Mariano Magrassi. Viviamo da figli rinati, dall'acqua e dallo Spirito Santo. Il battesimo, carissimi amici, è il germe della piena realizzazione, è la possibilità che abbiamo di realizzarci pienamente, non solo come uomini, ma anche come cristiani, come seguaci di Cristo. Non è l'esperienza del vero amore che noi cerchiamo, non è la felicità che cerchiamo, non è la vita eterna. Bene, il battesimo schiude dinanzi a noi questa prospettiva, questo futuro a tutti, allora l'augurio di poterlo realizzare e raggiungere pienamente. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e bene e buona domenica a tutti.